Un bambino di 6 anni è il primo francese a ricevere l'impianto di una mano artificiale costruita con una stampante 3D. Maxence, che abita nel dipartimento di Liseire, ha disegnato lui stesso la decorazione della mano. La protesi costa solo 50 euro e fa parte di un progetto americano per diffondere arti artificiali a basso costo.